Santa Lucia da domani, esposizione straordinaria del simulacro. Torna come tradizione l'esposizione straordinaria del simulacro di Santa Lucia nel periodo estivo. L'apertura della nicchia che custodisce il simulacro di Santa Lucia nella chiesa cattedrale avrà luogo domani, domenica 9, dalle 7.30 fino al termine della messa delle 19.00. Una scelta della deputazione della Cappella di Santa Lucia nel segno della tradizione. Nei mesi estivi il simulacro di Santa Lucia viene esposto per consentire ai fedeli, soprattutto a coloro che ritornano a Siracusa, di rivolgere un saluto e una preghiera alla patrona. Le messe saranno celebrate alle 8, alle 11.30, alle 19.00 con la chiusura al termine della messa del simulacro. La deputazione ha deciso che le altre aperture straordinarie estive saranno il 13 agosto e il 10 settembre, sempre con le stesse modalità. L'apertura della nicchia sarà visibile in streaming sulla pagina Facebook della deputazione. Riscontriamo l'affetto da parte di tanti fedeli, ha detto il Presidente della deputazione della Cappella di Santa Lucia, l'Avvocato Pucci Piccione. Le celebrazioni eucaristiche sono sempre molto partecipate e tantissimi pellegrini entrano nella cappella anche solo per una preghiera alla martire a Siracusano.